Non sapevi che in Tic Tic Boom? Lin-Manuel Miranda, il regista del film, ha scelto quasi subito Garfield per il ruolo di Jonathan Larson, ma non sapeva se l'attore sapesse cantare. Miranda ha quindi chiesto a un amico comune, il massaggiatore Greg Miele, che gli ha risposto che Andrew aveva la voce di un angelo. Quando però Miranda se l'è andato, Greg Miele ha chiamato Garfield per chiedergli se effettivamente sapeva cantare. Alla fine Andrew Garfield ha dovuto studiare canto per circa un anno, che per una persona che ora ha quasi 2,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify non è andata male, dai.